Vain Archivio è la 76esima edizione del Festival Nazionale d'Arte Drammatica GAD. Domenica il Teatro Rossini è andata in scena la tradizionale premiazione mattutina degli otto spettacoli in concorso per l'edizione 2023 che fra le tante categorie premiate ha segnato il riconoscimento massimo di miglior spettacolo a nove giorni proposto dalla compagnia Teatro Villaggio Indipendente di Settimo Torinese. Lavorare con quella giuria e quella giuria di oggi sono stati grandi stimoli e sono stati stimoli anche a riportare poi all'interno della compagnia e quindi all'interno del lavoro per migliorarsi sempre di più e quindi ecco nove giorni il lavoro che abbiamo fatto su nove giorni su questa storia di questo Paolo che parte per la guerra di Russia senza neanche sapere dov'era la Russia. Questo testo è nato soprattutto nelle case, nelle case delle persone perché noi prima di andare in scena in teatro siamo andati a casa di amici, a casa di persone che avevano il piacere di ospitarci per ascoltare il testo. Lì abbiamo collaudato che cosa volesse dire il testo di narrazione. Lì abbiamo fatto modifiche su suggerimenti delle persone che hanno ascoltato il testo. I premi sono stati assegnati dalla giuria del concorso presieduta da Antonio Caponigro e dalla giuria Studenti. Fra questi anche l'ormai tradizionale premio Claudio Sora offerto da Rossini TV che ha incoronato come miglior trailer quello dello spettacolo Così è se vi pare della compagnia Avalon di Battipaglia. Anche quest'anno è successo che qualcuno ha fatto incetta di premi, qualcuno molto meno, però ripeto la giuria rivendica questo desiderio di essere sincera nelle proprie valutazioni anche quando sono difficili perché poi noi premiamo un premiato, ci sono tre finalisti per ogni premio ma tante volte è difficile lasciare fuori un quarto, lasciare fuori un quinto e quindi è difficile anche dire guarda secondo la giuria valevi quasi quanto però ripeto con molta serietà e serenità direi anche portiamo avanti il lavoro con questa finalità che poi è quella che conferisce un ulteriore valore al festival perché chi sa che è premiato al festival sa che è premiato secondo un criterio di valore che non è condizionato da null'altro. Si aspettavamo un'elezione importante perché dopo anni di anche forte crescita in particolar modo di ampliamento del pubblico rispetto ai più giovani e gli studenti che sono stati i veri protagonisti della giuria ma anche del racconto del festival e le compagnie con sempre più entusiasmo anche della formula compatta che ravvicina gli spettacoli e quindi permette anche di rimanere più giorni a peso, seguire i lavori degli altri insomma la vera dimensione di festival fondamentalmente e poi naturalmente l'abbinata del ritorno al teatro Rossini che chiaramente anche se gli anni allo sperimentale hanno creato una forte empatia con il pubblico più vicino al palco però chiaramente il ritorno al teatro Rossini ha permesso anche di esprimersi con scenografie più importanti con spettacoli anche più strutturati. Questa edizione è stata direi superlativa ed è dovuta grazie all'impegno di tutti dalle segretarie, da tutti quelli che hanno portato un piccolo mattone più grande o più piccolo rispetto agli altri perché questa edizione fosse veramente una prodromica al Pesaro 24 capitale della cultura.